In occasione della ricorrenza del quarantesimo anno dalla fondazione del sodalizio ionico etneo, il Lions Club di Giarre Riposto, presieduto dal dottor Sebastiano Russo, ha indetto un concorso per la premiazione di uno studio svolto sul tema Quale futuro per le due città, se queste, fermo restante il nome Giarre Riposto, decidessero di unificarsi anche amministrativamente? Infatti, la storia ci dice che il comune di Giarre Riposto venne creato dal regime fascista nel 1939, unificando i comuni di Giarre Riposto sotto il nome di Ionia. L'obiettivo era quello di creare un'unica città, considerato che i due centri erano contigui e si sviluppavano lungo un'asse stradale urbano comune, la Via Nuova, oggi Corso Italia. Ma per le differenti origini dei due comuni, che mantenevano vocazioni economiche prettamente diverse, si attuò una nuova separazione nel 1945. Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni e in possesso di un titolo di studio come diploma di laurea triennale o magistrale, diploma di licenza di scuola superiore o certificato di frequenza in atto della quinta classe di scuola superiore. La domanda di ammissione, che dovrà pervenire tramite raccomandata postale alla sede del Lions di Giarre Riposto entro il 31 marzo 2017, dovrà essere accompagnata dall'elaborato firmato in ogni sua pagina e dalle fotocopie di un documento di riconoscimento e di uno dei titoli di studio. Ai quattro primi classificati verranno riconosciuti i seguenti premi in denaro. 600 euro al primo della graduatoria dei concorrenti in possesso di laurea magistrale, 400 euro al primo con laurea triennale, 300 euro al primo con diploma di scuola superiore e infine 200 euro al primo frequentante della quinta classe di scuola superiore.